Si è scagliato contro la moglie sferrando alcuni colpi di coltello fendenti che fortunatamente non avrebbero raggiunto punti vitali. Un drammatico incidente che si è consumato ieri nel tardo pomeriggio nel centro di Bibiana. Erano circa le 20 quando i carabinieri sono intervenuti in soccorso della donna. Il marito, 49enne, italiano operaio, al culmine di una lite l'avrebbe aggredita con un coltello da cucina con una lama di 7 cm all'interno delle mura domestiche. Poi avrebbe chiesto aiuto ad un vicino che ha chiamato i soccorsi. Una volta sul posto, sanitari e carabinieri hanno trovato la casa piena di sangue. La donna, cosciente, ha raccontato di essere stata aggredita dal marito. È stata trasferita all'ospedale di Careggi con l'elissoccorso. Ha riportato lesioni multiple, da taglio e altre contusioni. Sentì l'ambulanza arrivare, ma credevo che per presto l'ho saputo la mano. Non è in prognosi riservata, ma comunque in attesa di definire meglio il quadro clinico complessivo. Il marito invece è stato arrestato in flagranza di reato per tentato omicidio aggravato. L'arma è stata ritrovata sul comodino della camera da letto, su una sedia e gli abiti ancora sporchi di sangue. Drammatica anche la sequenza dell'aggressione, che pare sia avvenuta in più ambienti della casa. Ridicavano spesso, ma mai come questa situazione. L'uomo ha trascorso la prima notte in carcere a Sollicciano, in attesa dell'udienza di convalida. Gli inquirenti stanno ricostruendo l'accaduto per dare una precisa lettura ai fatti. Dietro alla terribile aggressione sembra esserci l'ombra di dipendenze da alcol e stupefacenti.